Mi è venuto in mente di fare questo spettacolo perché un giorno guardando mia nonna sul letto d'ospedale e mi ha affascinato molto perché ho detto come mi piace vedere un corpo di una persona normale in qualche modo esibito, sai con tutti i parenti che arrivano e tutti affascinati intorno a questo letto e anche perché noi scarti, ci chiamiamo scarti, anche perché siamo stufi di vedere a un certo punto sul palcoscenico dei corpi preparati, super belli con l'addominale che muovono ogni dito precisamente, perfettamente. Allora ci siamo detti, mi sono detto mettiamo in scena una persona normale che parla della sua vita e questa è la scommessa, mettere in scena una persona normale e trasformarla in una star, questo può essere una delle visioni del Big Big One Man Show, però è differente dal quarto d'ora di celebrità di Warhol, qui siamo proprio allo sfascio. Sono nudo, nudo, come di dei che nascevano dal cranio di Zeus o dalla sua coscia, come Dioniso, ed erano nudi e felici, io invece sono nato dal ventre di mia madre. In Ubu la violenza stava sul palco, senza espormi troppo dico che in questo caso nel Big Big One Man Show la violenza starà anche in platea, lavorare con la Dialma e nella Dialma è una grande opportunità e ringrazierò tutti gli dèi finché dura questa cosa, perché dal montaggio luci all'ambiente accogliente, al fatto di poter lavorare veramente in un ambiente teatrale, perché la Dialma è l'unico ambiente valido teatralmente in città, perché è l'unico ambiente che si presta al teatro contemporaneo per questa situazione aggradinata, è sublime, sublime. Io sono la spingere, miserabile essere mortale, in questa misera città io sono l'unico ordine e legge, di giorno sono un eccentrico scatolo milionario che vive una tenera amicizia con il suo alziano maggiadone, di notte sono la guardiana e signora della città di Tebe. Questo spettacolo non ha nulla a che vedere, non ha il minimo collegamento, la minima traccia comunque, è qualcosa che sarà nuovissimo. Sarà uno spettacolo principalmente basato sulla persona del sottoscritto e la sua infanzia, si vedranno delle foto che accompagneranno delle didascalie, altrettanto naturalmente teatrali, perché non sono didascali, e poi ad esse verranno collegati episodi più o meno noti della storia del teatro, per esempio Living Theater, che so, oppure il teatro della Grecia antica, e a questi episodi daranno lo spunto per agirli proprio sul contesto, per rappresentarli sulla scena teatrale. Io commento la foto, la spiego e poi la agisco davanti al pubblico. Grande esercizio teatrale che tu fai, per te e per il pubblico, qualcosa che ti porta a migliorarti costantemente, cioè perché ti devi mettere alla prova, essendo da solo non puoi permetterti di fare un errore come in uno spettacolo corale, dove magari il gesto di uno degli attori può essere compensato dal gesto di un altro degli attori. Qui ciò che si vede sono io, esattamente io, nello specifico. È veramente qualcosa che viene dal nulla in tutti i sensi, perché io veramente sono uno come potrebbe essere chiunque, sono una persona abbastanza veramente, a volte rasento l'insignificanza. E però proprio questo dà la forza a questo spettacolo, cioè chiunque può riuscire poi a portare in scena uno spettacolo a conduzione uno, cioè retto da una sola persona. Buonasera a lei Vespa, sono lieto, anzi lieta, di essere qui a rappresentare la questione gay, lesbo e trans, che sarò lieto di esporre a Godot quando naturalmente arriverà. La televisione ricorre molto spesso sempre in chiave polemica o satirica dentro questo spettacolo, insomma in chiave apparentemente buffonesca, perché se uno vede certe gag sembrano disimpegnate, ma poi invece si legge dietro le righe qualcosa che è un po' un atto io direi di sfida, di dichiarazione di guerra. Signore e signori, se volete trascorrere un Natale che non sia soltanto un'esibizione vuota di regali, formule rituali d'augurio e sciocchezze con termini, venite a vedere il Big Bigie One Man Show e forse avrete veramente un Natale degno di essere celebrato o magari vi pentirete amaramente.